Giovedì 28 marzo, ancora una buona giornata dalla redazione di TRMH24, ben ritrovati con la nostra edicola, lo spazio dedicato quotidianamente alla rassegna. Iniziamo allora dalle notizie di taglio nazionale, siamo sulla prima pagina della Repubblica dove sono i temi politici legati al dibattito delle ultime ore a tenere banco, destra assalto alle toghe, questo è il titolo di apertura, associazione nazionale dei magistrati, test psicoattitudinali, un messaggio contro di noi. La risposta della Premier Meloni, i magistrati politicizzati fanno perdere tempo, Gratteri, esami droga e alcol anche ai ministri e Nordio va avanti su separazione delle carriere e legge Severino. Salvini contro Mattarella, no alla scuola chiusa per il Ramadan. Il commento se la legalità diventa illegale è l'articolo firmato da Michele Ainis. E poi ancora sulla prima pagina della Repubblica, via libera al codice della strada, più velocità e meno sicurezza, ridotti gli autovelox e stretta sui telefonini. In taglio centrale, la fotonotizia, 100 miliardi di alberi ci salveranno dal clima impazzito. La ricerca italiana pubblicata su Nature. Il fronte esteri, siamo di spalla sulla prima pagina della Repubblica, attentato a Mosca, due terroristi venuti da Istanbul. Kennedy e gli altri candidati minori preoccupano Biden. Ancora, Maduro copia Putin per vincere al voto, sceglie gli avversari. In taglio basso, accade in Lombardia, architetto del PNRR, prestò il nome a Messina Denaro. Richard Serra, l'artista che mise le ali all'acciaio, aveva 85 anni. Ci spostiamo ora dalla prima pagina della Repubblica sulla prima del Corriere della Sera. Anche in questo caso i temi politici in apertura, focus però sul super bonus, regole e tensioni. E sulla giustizia, scontro per i test alle toghe. Nordio, ora separiamo le carriere. Forza Italia, informati solo all'ultimo, va modificato. Giorgetti pensa ai conti, costi per 200 miliardi. Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, Russia, i tre fronti e il rischio di un escalation, le minacce di Putin, gli scenari. Al medesimo tema è dedicato anche l'articolo di fondo firmato da Danilo Taino, guerre e democrazie, l'Occidente, la guida smarrita. Ancora in taglio alto, tornando sui temi di natura interna, dagli autovelox a droghe e alcol, ecco il nuovo codice della strada. Salis in aula, la speranza dei domiciliari. Quanto sta accadendo invece a Budapest? I temi politici, i sondaggi in vista delle europee. Fratelli d'Italia sale al 27,5%, il Partito Democratico oltre il 20 calano i 5 stelle. Forza Italia supera la Lega. In taglio centrale sulla prima del Corriere della Sera, la fotonotizia, Leone, le carte inedite, la mia solitudine, l'articolo firmato da Walter Veltroni, l'ex presidente, lo scandalo, l'Occid, le frasi di Andreotti, le dimissioni. Ancora in taglio centrale, incontro in stazione ripreso da un video, poi Edoardo è sparito, il giallo del sedicenne di Colico. L'architetto, la rete degli insospettabili di Messina Denaro, mafia, arresti dalla Sicilia a Monza. Infine in taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, quest'oggi intitolato Quelli che non la bevono. Ci spostiamo ora sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Convocati a Roma, il titolo di apertura. In antimafia, le audizioni di De Caro, Emiliano e Piantedosi, Bari, inchiesta quasi chiusa, Olivieri prepara il memoriale. I focus all'interno della Gazzetta, il sindaco, sono pronto per andare alle europee con la mia esperienza. Foti di Fratelli d'Italia, ma nessuno ha ancora spiegato tutti i cambi di versione. L'appello del vescovo, Iva, Ilva al centro, l'operaio, il malato, la messa celebrata in un capannone. Torniamo in taglio alto. I commenti, tempesta perfetta sulla politica locale, le speranze sul futuro. Poi ancora un selfie con una sorella non si toglie a nessuno, nemmeno a Putin. Infine, quegli allarmi bomba e la società del rischio che non si estingue mai. Rapidamente diamo uno sguardo anche alle notizie che arrivano dalle province. Sono riportate in taglio basso. Neonato morto nella culla a Campi. Ci sono due medici indagati. Fu trovata impiccata a Casarano. Finisce nei guai il fidanzato. Tocca Ostreni. La linea Foggia-Caserta riaprirà l'8 aprile. I nuovi stop. Pista di Nardò. La regione sospende l'ampliamento ambiente. Ci sono nove indagati per la morte del collaudatore. Dalla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno ci spostiamo ora sulla prima della Repubblica. Bari. G7. No apertura al Castello Svevo. Saltano anche i vertici bilaterali. È stata scelta Barletta come sede per l'avvio del Summit dei Grandi che si terrà dal 13 al 15 giugno. Forse nel maniero di Bari Vecchia l'assise sulla sanità. In fiera, media center, piattaforma, elicotteri. Le audizioni Emiliano De Caro e anche Rossi verso l'antimafia. Ancora scorrendo la prima della Repubblica Bari. La nipote del boss occupò la casa del futuro pentito. In taglio centrale la fotonotizia è relativa al titolo di apertura, quindi al G7. La foto ci racconta della riunione che si è svolta in Giappone lo scorso anno. Cambiando invece argomento, domande e risposte. Se i commissari finiscono prima, lo scioglimento blocca le elezioni, i possibili scenari che potrebbero riguardare quindi la città di Bari. L'inchiesta di spalla, gli attentati a Canonico per fargli vendere il foggia calcio. La frana dall'8 aprile sarà riattivata la ferrovia e poi l'annuncio di J10 2024 torna alla festa dello sport. Diamo ora uno sguardo anche alle pagine interne, dove vengono approfondite chiaramente le notizie che abbiamo appena letto. Ripartiamo dal G7, non al Castello Svevo, motivi di sicurezza. L'apertura va a Barletta, il maniero di Barivecchia non dovrebbe ospetare nemmeno gli incontri bilaterali. Forse ci sarà il Summit della Sanità in Fiera, Media Center e la piattaforma. per gli elicotteri. Il raduno dei grandi si terrà dal 13 al 15 giugno. In ballottaggio c'era anche l'ipotesi di Castel del Monte. Sulla stessa pagina la polemica. Canfora querelato da Meloni, con lui 30 associazioni. Ecco chi sostiene il docente. E poi l'approfondimento. Dicevamo sugli scenari che potrebbero interessare il capoluogo pugliese. Se i commissari finiscono in anticipo, il voto è a rischio. Domande e risposte dall'articolo firmato da Davide Carlucci. Continuando a scorrere le pagine della Repubblica Bari, ritroviamo anche i fatti di cronaca. Emiliano De Caro e anche Rossi, ipotesi audizione all'antimafia. La Commissione parlamentare potrebbe sentire il governatore, il sindaco e il procuratore della Repubblica. Intanto i commissari nominati dal Viminale oggi saranno all'AMTAB a confronto con la presidente Angela Donvito. In forse l'ascolto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ventilato dai membri dell'opposizione nella bicamerale. Così la nipote del boss occupò abusivamente la casa popolare dell'aspirante pentito. Nell'abitazione sono rimasti anche gli arredi, compresi i peluche dei bimbi. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. L'accelerazione dell'antimafia, questo è il titolo di apertura, chiesta l'audizione di Emiliano De Caro. Il centrosinistra si ascolti anche Piantedosi. Rischio scioglimento, convocati il procuratore Rossi e Di Matteo. Reclamate le carte dei concorsi AMTAB. Il vizio politico di andare oltre l'articolo firmato da Claudio Scamardella e poi ancora in taglio alto il caso Bari secondo Di Pietro. Al sindaco aperta una strada Michele ha agito da sceriffo queste le dichiarazioni del PM di mani pulite. In taglio centrale un bus per festeggiare, agricoltore 73 anni, si laurea in medicina. La storia Enzo e il viaggio con gli amici fino a Napoli. Le notizie riportate di spalla. La regione si inchina all'Unione Europea, sospeso l'accordo di programma con Porsche. In calo gli ordini di e-bike, Bosch negli incubo esuberi. Pittella è il sogno di rivalsa, così farò vincere Bardi, l'ex presidente della Basilicata. Impiccata in casa, indagato il fidanzato, svolta nel giallo di Casarano, la madre di Roberta, passo in direzione della verità. Anche in questo caso diamo uno sguardo alle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Pista di Nardò, la regione si ferma dopo i rilievi dell'Unione Europea. Il governatore è spesso sospeso l'accordo di programma. D'Amato dichiara vinta la prima battaglia, ora salviamo il Bosco. Bosch ritorna all'incubo degli esuberi. Falcetta, anche l'e-bike non decolla. Presidio in regione durante il tavolo di crisi. Siamo preoccupati, l'azienda prenda impegni. L'antimafia chiama Emiliano e De Caro, ma si convochi anche piante dosi. Chiesta l'audizione di Rossi e di Matteo, exam, tab, dattis, dichiara. Aspettiamo tutte le carte. Il sindaco, qua ad uvi l'ispezione, il racconto del mio amico Michele come una scena da film western di Pietro, PM di Mani Pulite. Non si trovano accordi con il crimine. Queste le sue dichiarazioni. Dal fronte della politica lucana, Pittella la rivalsa è servita, non voluto da PD e Movimento 5 Stelle, perciò farò vincere Bardi. Marcello, ex presidente della Basilicata, mio fratello, lo rispetto. Ci spostiamo ora sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Capriati in campo, l'antimafia, Emiliano e De Caro chiariscano il caso. La Commissione ascolterà il governatore e il sindaco, poi toccherà al pubblico ministero Rossi e al ministro Piantedosi. Farò degli ispettori su interdinali e concorsi all'Amtab, la Commissione al lavoro e poi in taglio centrale Porsche stop all'accordo, la pista non sarà ampliata. Tra le Cese e la Forgia ora è guerra sui sondaggi, il capologo alle urne. In taglio basso Stellantis, 500 tagli, Tabarelli sull'Exilva, noi i più puliti. Diamo ora uno sguardo alla prima pagina del quotidiano di Bari, il titolo di apertura. De Caro ed Emiliano convocati dalla Commissione antimafia, ma la decisione di udire il primo cittadino barese e il governatore pugliese sul caso Bari dovrebbe essere presa dopo Pasqua. in taglio centrale, aggressioni agli operatori sanitari, si procede d'ufficio, Andreula dell'Opibari, un passo avanti a tutela del lavoro degli infermieri. Il quotidiano di Foggia, il titolo di apertura frana sulla Foggia Benevento, la linea sarà riattivata dall'8 aprile, oltre 70 tecnici di rete ferroviaria italiana e imprese appaltatrici qualificate stanno lavorando senza sosta per ridurre i disagi e anticipare la riapertura. Infine il titolo di apertura del sole 24 ore per le notizie di taglio economico, super bonus, comunicazioni antifrode, maxisanzione per chi non invia i dati e poi in taglio centrale dal PNRR ai fondi nazionali un miliardo per decarbonizzare gli impianti ex Ilva. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona giornata.